Ma quello che non vedo è la nostra capacità davvero di costruttore di pace, di essere efficaci. Io ritengo le parole sacrosante di padre Berrigan, il grande gesuita americano che ha animato la resistenza contro la guerra in Vietnam. Berrigan diceva, ricordiamoci, che oggi fare pace è altrettanto costoso di fare guerra. Dobbiamo avere il coraggio davvero di cominciare a capirlo questo e fare quello che fa in questo momento l'ultima generazione, Extinction Rebellion, andare in prigione. Non c'è. Dobbiamo abituarci alla disobbedienza civile perché altrimenti davvero andiamo alla morte, alla catastrofe.